Grazie! Adesso io devo fare il regalo. C'è un pezzo nel mio ultimo cd, mi sembra che c'era un signore che si chiama Mario Vitale, non c'è? Prima me l'ho fatta, preparare il monocistante, doveva regalare, doveva dedicare questa canzone all'amore. Ci sono delle canzoni del mio ultimo cd, è uscito da poco, che si chiama Turvolento. C'è una canzone che sta andando molto molto bene sulle radio. A volte ci sono dei suoni che in piazza non si possono...